saverio coda e carmen de ronzo grazie per essere con noi allora ci sono degli appuntamenti importanti da parte nostra come la tua tv questa sera abbiamo il nostro santino caravella che è lì a vieste con la sua docufilm cittadino per un giorno e parla di quanto di questa perla del gargano che tutti conosciamo e poi e voi come come gruppo le vestesene che fa parte dell'associazione scusate la pronuncia che fa parte dell'associazione serenata la tarantella domani sul rai 3 parlamento insomma una bella soddisfazione per voi non solo per tutti i pugliesi immagino no per serenata la tarantella è un bel è un bel traguardo una bella vetrina ci siamo impegnati tanto per per poter dare delle belle soddisfazioni per tutti e diciamo pian piano si presentano i vari traguardi allora ci sarà domani una vetrina anche nazionale appunto come abbiamo detto solo che quest'anno la carmen diciamo pure che lei è la voce no del del gruppo la cantante e mentre saverio il presidente dell'associazione allora ci sarà una una ripartenza speriamo non più tramite non solo online ma proprio di persona con queste riaperture si possa lavorare bene vero penso che noi ce lo auguriamo ce lo auguriamo con tutto il cuore anche perché anche per via telematica noi comunque abbiamo continuato a lavorare però sappiamo bene che la presenza della gente potersi confrontare poter parlare poter dire la cosa giusta la cosa sbagliata che sia insomma ci manca e speriamo di poter più presto esibirci in presenza chiamiamola così e poi per degli artisti insomma il pubblico è fondamentale sentire gli applausi no questo è abbastanza è un motivo di carica per per poter fare uno spettacolo allora torniamo alle vestesene che cosa vuol dire per chi non è di viestere vogliamo spiegarlo spieghi tu carmen oppure come volete la vestesene praticamente è la tipica donna viestana di una volta di quei tempi con l'abito tradizionale del posto e abbiamo chiamato questo gruppo così proprio per sembrare un po patriottico insomma come come nome è proprio per definire la donna viestana dell'epoca e la donna attuale di vieste è diversa da quella dell'epoca o ci sono almeno come abbigliamento almeno come qua ci mettiamo la mano sul fuoco poi caratterialmente insomma ognuno apprende dalle proprie nonne quello che può è rimasto qualcosa o è cambiata completamente non lo so siamo nel 2021 non non possiamo non lo sono e invece e invece questi questi abiti a che epoca risalgo insomma che periodo beh almeno per il periodo ottocentesco diciamo del sì più o meno li mi sono mi sono documentata e ho chiesto informazioni e anche delle fotografie a alcune persone che che conoscevano le vecchie tradizioni vecchi costumi insomma me ne hanno mandate preso spunto da lì insomma saverio ma la tarantella qual è quella quella vera quella salentina che ormai è nota in tutto il mondo la notte della taranta lo sappiamo o quella garganica questa è una disputa aperta sono sono vere tutte e due ognuna ognuna delle due alle sue origini la la pizzica è quella che attualmente va più forte perché la notte della taranta è riuscita a consacrarla a livello mondiale la tarantella del gargano segue la pizzica ma anche noi non siamo da meno certo tecnicamente ci sono delle differenze per sostanzialmente diciamo che scusa se ti tolgo la parola diciamo che si differenziano tutti e due con il suono del tamburello perché la tarantella garganica viene percorso nella tarantella garganica il tamburello viene percorso solo con la punta delle dita mentre nella pizzica salentina il tamburello va percorso a rotazione con tutta la mano sono comunque dei balli con delle strutture semplici per entrambi i generi e rendono queste parti queste le strutture musicali rendono queste particolari melodie perfette per essere ballate insomma e il tema di fondo è sempre quello del rapporto fra uomo e donna del tentativo di conquista è quello o c'è dell'altro in quella garganica no in quella garganica diciamo che più sul rapporto tra uomo e donna tentativo di conquista o mentre in quello salentino è più un una credenza popolare diciamo che si riferisce al morso di una taranta del rano e con le musiche forti come se questo questo maleficio che ha colpito il malcapitato debba essere estrapolato certo lì c'è un tentativo proprio di di salvare no di guarire per certi aspetti queste donne che erano morse dalla taranta è un rito di guarigione esatto invece quello tra della del gargano appunto ripetiamo è più un approccio no il rapporto tra la ragazza avesse sene e il vestesano corteggiamento sì appunto ecco sì va bene se un'altra un'altra domanda ma a saverio cosa manca alla tarantella del gargano per diventare per diventare evento anche mondiale sì domani state spesso sulla nostra sulla tua tv sulla nostra vita poi domani in rai per diventare un evento tipo quello della notte della taranta che bisogna fare crederci la domanda difficilissima beh innanzitutto innanzitutto ci vuole tanta passione e sacrificio da parte da parte nostra per crederci in dove vogliamo arrivare per per l'evento poi comunque ci vuole l'aiuto degli enti che ci devono sostenere e credere anche loro in quello che vogliamo fare e naturalmente ci devono seguire tanti sponsor tanti commercianti che comunque noi ringraziamo sempre per quello che che ci offrono e man mano andare avanti e riuscire a a far a farla salire però gli enti sono importantissimi perché se ci aiutano loro e ci credono loro in noi eh riusciamo come d'altronde è successo con la notte della taranta certo altrimenti siamo fermi deve diventare un evento regionale quantomeno di interesse della regione e soprattutto perché vi este insomma e comunque fra le prime mete del turismo nazionale e internazionale quindi sarebbe un peccato allora ci dobbiamo fare uno sforzo comune tutti insieme che ne dite speriamo poi se è nata la tarantella è un è uno dei primi eventi forse il primo evento che si è fatto su una spiaggia e si fa su una spiaggia quindi vedere un palco mondato su una spiaggia è abbastanza abbastanza successo suggestiva la cosa dovrebbe rendere ancora più attraente certo l'evento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti